Salve a tutti e bentornati a PartyHard Allora, eravamo rimasti a full party Che l'altra volta abbiamo fatto veramente una fine pessima Vediamo se questa volta riusciremo a combinare qualcosa Wow, come mai? Ok Ogni tanto Ops Aspettate C'è qualcosa che non andava nella musica Un po' altina secondo me, stranamente No, vabbè, lasciamo così, va Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare Intanto c'è sempre quel buttafuori là che è veramente odioso Devo riuscire a inventarmi qualcosa Allora, intanto frulliamo qualcuno Ok Abbiamo frullato i due Il che va bene Se riuscissi a trovare qualche oggetto buono Potrei far partire la conga line Ahah Vediamo un attimo Allontaniamoci il più in fretta possibile Ahah C'è un ninja qua Intanto facciamo cadere il ninja Non so che cosa fare con queste persone qua Dai Ci sto praticamente sopra Ecco Abbiamo risolto Ah, hanno visto il cadavere Dov'è il poliziotto? Prima che mi avvicino al cadavere Faccio una brutta fine E questo lo buttiamo di sotto Beh, dai Alla fine non sta andando Che è successo? Che hanno visto? Prendiamo anche questo Buttiamo giù anche questo Beh, dai Piano piano Stiamo facendo il nostro lavoro Un lavoro un po' strano Cioè quello andare in giro per feste E uccidere la gente Però Non so Non penso ci paghi qualcuno Ma è solo la nostra vocazione Ah, ad esempio questo No, non ce lo fa buttare Ah Lì abbiamo fatto esplodere qualcuno Eh, le scarpe Non è che ci servono Ma molto Abbiamo avvenenato qualcuno? No Pochissime persone hanno bevuto Il punch E questo è il discorso di questo livello Non c'è tantissima Non ci sono tantissime cose da fare Cioè Anche se io facessi partire la conga line Non trovo Ah Non trovo oggetti da utilizzare Per uccidere le persone Non è neanche arrivato l'uomo misterioso Che ci ha portato No, intanto devo stare attento Perché C'è quel butta fuori antipatico Oh cavolo Via, 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 via Ah Non so onestamente Non si dice qualcosa Cosa? 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 sapete che non ho assolutamente capito che cosa intende adesso torna indietro come prima ah intanto ah già il bungalow lo devo far cadere ad esempio ok questo lo prendiamo e lo buttiamo piano piano stiamo un po' ripulendo la zona il discorso è che lo stiamo facendo veramente piano ok e dobbiamo ancora togliere quel buttafuori per esempio quel bungalow anzi il bungalow bar cioè lo potrei far crollare ma cioè non è che mi risolve tantissimi problemi appunto un attimo solo rieccomi è questo il discorso cioè anche questa persona no io adesso la prendo e vado a buttare anche questa di sotto da qua si può buttare? no ah beh dai è stato un incidente quello su che cosa mi posso inventare? no non c'è proprio molto purtroppo l'uomo misterioso non è venuto eh 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 no cavolo l'ha visto oh ok non so proprio niente mi sa che li devo eliminare tutti piano piano molto piano niente questa sta troppo lontana quel dannato buttafuori ah andiamo a mettere non mi piace molto questo livello poche cose interattive diciamo è proprio come riempitivo alla fine è uguale a l'altro precedente del tetto e non no 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 cacchio niente troppo tardi non ho fatto a tempo oh oh ok no 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 ok uff Siamo andati molto vicino Ok Quanti ne mancano? Oh C'è tutta questa gente qua? Ma io mica ne sono tanto sicuro Ok No che ce l'ha con me? Oh cacchio Oh finalmente abbiamo tolto Questo butta fuori dalle scatole Ah Dai solo 10 Allora Qua c'è uno che dorme Mmm Il problema è che stanno tutti vicino Ah Devo aspettare che si separano Mmm Aha Eccone uno Portiamolo via Oh Noo Cacchio Che è così ti impari Eeeh No 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 nooo Noi è una grandissima Devo ammetterlo Questo livello è una grandissima scocciatura Non Non lo trovo molto divertente Gli altri livelli si Li avevo trovati divertenti Ma devo ammettere che questo È veramente veramente moscio devi essere fortunato di trovare un oggetto interessante all'interno della valigetta ma altrimenti la stun bomb per esempio adesso quella è andata a capire che ero io l'assassino cioè non boh no a questo punto li uccido tutti subito vediamo se dice bene dice bene se no ah 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 niente non si riesce neanche quello comunque esplode secondo me no non fa tempo no non lo so non lo so diciamo che più che altro non non mi sto divertendo e se alla fine un gioco del genere fallisce in questo è veramente eh o c'è qualcosa che non ho visto o non ho capito ma secondo me non è questo il caso ok adesso abbiamo proprio una bomba eeeh il che potrebbe esserci utile con la conga line però è questo il discorso cioè se devo fare affidamento sulla conga line cioè sul fatto di trovare una bomba eh non faccio tempo a ucciderlo troppa gente veramente troppa gente hmm che ci inventiamo non so neanche se dopo un po' si ricarica la bomba vediamo se riusciamo a far fuori con la guardia del corpo perché non sta esplodendo con l'amplificatore con tutta quella gente là vicino e dai nooo 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 ok per esempio per esempio chi posso chiamare qualcuno ho chiamato ahhh oddio se queste guardia del corpo per esempio chi ho chiamato ho usato il telefono per chiamare chi mmm 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 ad esempio ad esempio se a coltelli qualcuno chiamano la polizia però se ti vedono che butti qualcuno fuori dal balcone non chiamano nessuno non sono neanche riuscito a avvelenare il punch mmm allora la bomba apparentemente non si a differenza degli altri oggetti non si ricarica il che è un vero peccato perché forse era l'unica maniera semplice di superare questo livello neanche gli ombrelloni proprio nulla non c'è niente di interattivo cioè è carino il discorso di tagliare le corde per far cadere quelli che puliscono i vetri però tutto il resto finisce là cioè anche adesso tutta questa gente che sta laggiù è un po' un problema ad esempio questo riesco no assolutamente no ah per esempio make a call ma a chi sono appena aumentate le persone da uccidere ok e che cioè qual è il lato qual è stato il lato positivo in tutto questo no non lo so non so perché avrei eh non ne ho la più fatta idea no cavolo no 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 ci provo l'ultima volta dopo non non so onestamente come vi ho detto non è che mi sta mi sta particolarmente entusiasmando questo livello nooo nooo non l'ho visto stare in mezzo alla gente la gente no 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 non faccio a tempo ad arrivare prima del non posso non posso ah no chiamo direttamente le altre persone vediamo un attimo che succede ok ok cioè per esempio le scarpe da corsa si sono comode ma insomma tra tutte le varie cose che uno poteva trovare c'è 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 che sono le più inutili c'è come facciamo c'è c'è possibile veramente che devi pugnalare tutti quanti che è un'enormità di gente da pugnalare c'è un vampiro nell'acqua il conte dracola nell'acqua ehm nooo merda che è già arrivato? no è arrivato adesso ok ok ahhh ahhh vediamo un po' seriasco oh 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 eeeh nooo dai ci ero riuscito ci avevo cliccato ahhh vediamo se troviamo qualcosa di utile dentro la riggetta se nooo penso basta è un peccato perché i livelli precedenti mi hanno veramente veramente divertito eeeh avrei voluto vedere la fine però cioè non lo so se poi mi va di fare un'altra mezz'ora tentare di superare lo stesso livello che oltretutto non mi diverte cioè non ho problemi a continuare a ripetere un livello o una parte di un gioco se questa parte comunque sia è divertente ma cioè in questo caso non mi sta divertendo moltissimo cioè quasi per niente eeeh via cioè è sempre divertente far esplodere la gente o accolterlarla o buttarla ovviamente è il gioco non pensate che sei un pazzo psicopatico eeeh però non ah cavolo diaiaiaia diaiaiaiaia nooo dove sta cavolo dai andiamo subito a provare a vedere che cosa c'è all'interno un'altra volta la stun bomb che tra tutte le cose diciamo che è quella no e dai su oh cavolo ma dai era anche avvelenato era anche avvelenato ahhh adesso sono un po' senza parole che a volte ti vedono altre volte apparentemente per qualche oscuro motivo non si muove questa questo butta fuori è l'unico butta fuori che decide di restare lì ahhh ahhh stiamo qua sopra il che non arriva la polizia ci mascheriamo mmm mmm allora ora che possiamo fare intanto avveleniamo il ponchi chiamiamola gente in più no 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 ahhh voglio fare quella telefonata è il mio diritto fare una telefonata ok soddisfalle dopodichè facciamo partire la conga line come è morto quello è morto avvelenato oh ha preso qualcuno sbagliato ma neanche il poliziotto si è avvelenato dobbiamo partire la conga line nooo l'ho messa male mi sa mi sa che l'ho proprio messa male ohhhh come sfregare una bomba perchè ho il simbolo delle manette io che c'entro c'è c'è ero io il colpevole ma perchè ho il simbolo delle manette c'è perchè lo avevo vabbè sul serio Ultima volta Ci riusciamo bene Se non ci riusciamo Lasciamo stare L'ho detto è un peccato Che lo trovavo molto No no Molto divertente Però Per esempio Scusate Rieccomi Scusate ma Non sono riuscito a riaffreddarmi un'altra volta Per esempio io adesso ho messo giù la pizza No No E' buono Però non è che ci sta andando Qualcuno A mangiare la pizza Cioè c'è la pizza là No? Ma non la sta mangiando nessuno Boh Cioè non si sta avvicinando nessuno Che cosa è successo là Alla pizza Oh Oh Bada No Ma che cavolo No Adesso sto bloccato qua No Fortuna Fortuna Che mi aspettavo che si facesse un po' Un mucchietto di gente intorno alla pizza E invece Pochissima gente Cioè se alla fine devo fare tutto questo per uccidere solo una persona Ehm No dai Come ha fatto a vedermi Yeah yeah Corri giù Corri giù Corri giù Corri giù Oh Via scappa su Scappa su Non molla Il poliziotto non molla No Ok Non lo so Non so se Devo essere onesto Non so se Ci riproverò Forse Forse Però ci sono tanti altri Giochi Più divertenti Da provare Ehm Non so che dirvi Su questo livello Ehm A un reskin Del livello precedente Ehm Con Meno oggetti interattivi Cioè alla fine Il divertimento di questo gioco Non è il fatto che Il gioco è difficile Ma il fatto di Utilizzare gli oggetti che ci sono sullo schermo Per uccidere La gente Ma se effettivamente Non c'è tanta roba Da fare Forse Mi son perso qualcosa Ma anche se ci fosse stato Un altro oggetto In più Non lo so Non è bene Un po' Un pochino deluso Un pochino deluso Perché Lo trovavo divertente Come gioco Comunque sia Grazie a tutti E ci vediamo La prossima volta Dubito Con un altro episodio Di Party Hard Ma sicuramente Con qualche altro gioco Ciao ciao Ciao